Aperto i battenti alla stazione marittima di Napoli la quinta edizione di Technology Beats. Al centro dell'edizione 2013 di quest'anno, Internet e le nuove tecnologie per un Sud sempre più competitivo. Numerose le tavole rotonde, tra cui quella sull'innovazione, donne e business e per quanto riguarda le materie di imprese e credito. Nel corso della giornata di lavori si è svolta anche la tavola rotonda organizzata dal quotidiano economico Il Denaro Napoli 2020, a cui ha preso parte il presidente della banca di credito cooperativo Amedeo Manzo.